Solo proclami e passerelle, mentre gli atti concreti restano lettera morta a discapito di lavoratori e cittadini. E' quanto affermano le deputate Maria Lucia Lorefice e Vanessa Ferreri, insieme ai consiglieri del Movimento 5 Stelle di Vittoria, mentre affermano di voler continuare a restare al fianco degli agricoltori e dei cittadini che in questi anni sono stati vittime di aste e di sfratti. Crisi economica, agricoltura e collasso, secondo la Lorefice, la Ferreri e i consiglieri del Movimento 5 Stelle e Vittoria avrebbero messo in ginocchio l'ex provincia di Ragusa, così come pignoramenti e aste giudiziarie. Le due deputate sottolineano di aver portato in questi anni le difficoltà del territorio all'attenzione delle istituzioni, cercando risposte e proponendo soluzioni. In cambio, affermano di aver ricevuto solo silenzio e un immobilismo che non avrebbe giovato alla drammatica situazione che vive il comparto agricolo. Le aste giudiziarie sono sempre più all'ordine del giorno. Agricolture e sfratti sembrano essere divenute drammaticamente l'uno allo specchio dell'altro. Un fenomeno che riguarda Vittoria in primis, ma anche tutte le altre città dell'ex provincia di Ragusa, che hanno sempre vissuto di agricolture che ora si trovano in ginocchio, come spiegano le due rappresentanti grilline. Tra pignoramenti, aste, calamità naturali, virosi e caporalato, il comparto non trova modo per risollevarsi. Tutto questo sostengono con forza, nonostante la legge approvata all'Assemblea regionale siciliana sull'impignorabilità della prima casa, prima firma Vanessa Ferreri, che però giace dal 2015 nel fondo di un cassetto al Senato. Una legge che si è approvata in Parlamento sarebbe un'importantissima boccata d'ossigeno per migliaia di famiglie. Le deputate concludono, poi sottolineando un altro atto redatto in collaborazione con i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Vittoria, una proposta che verte sulla modifica dell'articolo 164 bis del Codice di Procedura Civile, sulla infruttuosità della procedura esecutiva. Con questa modifica, il Movimento 5 Stelle vorrebbe tutelare sia i creditori che i debitori, evitando però eccessivi ribassi che portano solo alla svendita a prezzi irrisori di un bene primario qual è la prima casa. Stiamo facendo la nostra parte, spiegano le deputate Lorefice Ferreri, per tutelare i cittadini con i mezzi che abbiamo a disposizione. Vogliamo sapere quali sono invece le intenzioni dei governi nazionali e regionali nel concreto e non solo a parole. Le parole non cambiano lo stato delle cose, serve agire adesso. Grazie a tutti.